Quanto sono stati penalizzati dalla crisi giovani in cerca di un posto di lavoro? In che modo il livello di istruzione dei laureati italiani incide sulla capacità di trovare una buona occupazione? Negli ultimi dieci anni i giovani occupati tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di circa 1,4 milioni e contemporaneamente la disoccupazione giovanile è passata dal 21,2% nel 2008 all'attuale 34,7%. Sicuramente un campanello d'allarme è di prova che qualcosa nel Giovact introdotto dal governo Renzi non ha funzionato. Se si pensa che nel periodo preso in considerazione si assiste anche a un aumento del contratto part-time, il 30% in più del 2008 che ha prodotto un incremento della sottococcupazione e il proliferare del part-time involontario, oltre 2,6 milioni di occupati che hanno accettato un contratto di lavoro part-time pur cercando un lavoro a tempo pieno. In questo periodo di chiara difficoltà per chi si affaccia al mondo del lavoro Benzi inserisce l'offerta del governo australiano per offrire l'opportunità ai tanti giovani desiderosi di cementarsi con un paese in continua crescita che cerca proprio nei giovani quella forza propulsiva data dal giusto mix di idee e entusiasmo. Per l'occasione abbiamo intervistato la dottoressa Angela De Marco, consulente per l'immigrazione che opera ad Adelaide, per conoscere tutte le opportunità che il governo australiano mette a disposizione. A voi l'intervista. Amici di Delicases, buongiorno. In questo momento mi trovo qui alla Pieneta Palace Hotel di Roma e sono in compagnia della dottoressa Angela De Marco. Buongiorno dottoressa. Che è una consulente per l'immigrazione in Australia. Sì. Precisamente lei viene da Adelaide. Sì, sono nata e vivo in Adelaide. Perfetto. Allora, vengo subito alle domande. Allora, in un periodo in cui l'occupazione giovanile qui in Italia è minimi storici, come nasce l'idea di creare un percorso per i giovani appunto per andare in Australia? Allora, il governo australiano ha creato un visto, e sono molti anni che esiste questo visto, che si chiama il Working Holiday, sarebbe un visto vacanze e lavoro. e molti ragazzi italiani stanno usando questo visto per poter entrare in Australia, lavorare e cercare il modo di rimanere. Certo. Mi può dire a sua conoscenza le cifre ufficiali del numero di giovani interessati a questa opportunità? Non posso dare proprio un numero, però quello che posso dire è che secondo le informazioni sono dato dal Dipartimento di Migrazione, il numero è molto grande, cioè gli italiani che arrivano e i numeri sono simili al dopoguerra. Ecco, dove ci fu quel grande esodo verso l'Australia. L'ultima domanda che le faccio sono quali sono i requisiti essenziali, a cominciare dall'età, se c'è ovviamente un limite. Sì, allora con il Working Holiday bisogna avere meno di 31 anni e di fatti si possono chiedere per due anni, perciò uno può tranquillamente avere due anni di visto e bisogna avere... Un visto vacanze, eh? Sì, vacanze e lavoro. Il lavoro può essere a tempo pieno, uno può lavorare anche molto di più e questo è importante perché si guadagna abbastanza bene. E poi ovviamente uno deve stare bene di salute, non bisogna avere carichi pendenti e il passaporto italiano è ben visto in Australia, allora non è difficile ottenere il visto. Quindi ricordiamo l'importante essere sotto i 31 anni, dico bene? Assolutamente, sì. Bene, allora naturalmente invitiamo tutti i giovani entro quella fascia d'età di incominciare a... Una cosa ho dimenticato però, non bisogna avere figli a carico, ok? Bisogna essere o singoli o anche sposati però senza dipendenti. Perfetto, mi pare le informazioni sono chiare, io la ringrazio e speriamo che ci sia tanta risposta da parte dei giovani perché insomma credo che l'opportunità dell'Australia sia una grandissima opportunità e le auguro un buon soggiorno a Roma e un buon rientro poi ad Elaide. Grazie dottoressa. Grazie. Grazie, grazie a voi, alle prossime.